buongiorno e benvenuti nel mio canale brevissimo tutorial per tornare all'interfaccia precedente di GIMP se avete aggiornato a questa versione 2.10.18 dunque se avete aggiornato il GIMP a questa versione avrete visto che gli strumenti si sono raggruppati e non sono più tutti visibili ma sono divisi in gruppi più o meno come avviene su photoshop come vedete qua accanto a ciascun strumento c'è una iconcina una peccetta basso a destra cliccandoci sopra si vede proprio tutti gli altri strumenti che fanno parte dello stesso gruppo questo è lo strumento trasformazione 3d ma c'è anche la prospettiva vedete e quindi praticamente si vede poi soltanto quel quello strumento che è stato scelto per quel tipo di gruppo qui in quest'altro gruppo ci sono altri strumenti strumento trasformazione warp e trasformazione gabbia come vedete per gli strumenti qui c'è lo spumino sfoca schermo eccetera gli strumenti sono suddivisi in gruppo francamente a me qui c'è duplica clona cerotto a me piaceva come stava meglio prima secondo me vediamo come tornare alla visualizzazione precedente è fortunatamente molto semplice si va su modifica preferenze nelle preferenze si sceglie pannello strumenti ecco qua questa qua è la flag o la spunta come la volete chiamare insomma il controllo che mostra i gruppi di strumenti qui vedete si possono anche modificare gruppi di strumenti per esempio questo strumento sta in questo gruppo si può magari trascinare in un altro gruppo per ritornare alla visualizzazione precedente cioè senza gruppi si toglie questa spunta ecco fatto gli strumenti vengono tutti visualizzati come era prima di questa di questo aggiornamento di gimp io personalmente lascerei così interessante anche queste altre due opzioni qui c'è mostra il logo di gimp che è questo si può anche togliere per avere più spazio francamente non è che serva molto questo invece questo di lasciare i colori in primo piano di sfondo questi due qua questi due sono importanti per vedere quali sono i colori di primo piano di sfondo questo può essere utile oppure no mostra il pennello il motivo e i gradienti attivi questo qua comunque per tornare alla situazione precedente si mette la spunta qua si toglie questa spunta vedete questa è con i gruppi e questa è senza gruppi si possono ovviamente cambiare anche il tema delle icone se volete delle icone come le mie date su tema icone e scegliete la opzione color poi ci sono le opzioni legacy cioè quella che l'eredità del precedente versione di di gimp sono quelle simboliche che sono queste quelle simboliche con alto contrasto sono uguali soltanto un po più evidenti le simboliche invertite io personalmente riferisco quelle color che sono molto più visualizzabili evidenti di tutte le altre questo è tutto la prossima volta magari vedremo lo strumento trasformazione qui chiaramente si può andare anche su reimposta per ritornare alla situazione precedente si va su ok invece per salvare quella che abbiamo scelto la prossima volta vedremo magari lo strumento trasformazione 3d che è stato aggiunto con questa nuova con questo nuovo aggiornamento di gimp e questo è tutto grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti